Benvenuti alla patch preview 13.1, questi sono i cambiamenti che Riot ha annunciato stanno per arrivare, potrebbero arrivare leggermente diversi quando poi esce la patch il 10 di gennaio Fa strano dire il 10 per il semplice fatto che le patch usciranno il martedì quest'anno a quanto pare Quindi dobbiamo cominciare ad abituarci al fatto che lunedì usciranno le patch notes e martedì escono le patch È troppo strano, vi giuro, per me almeno è assolutamente strano Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace al video e commentate sotto se avete dubbi o domande Vi ricordo che è uscito un nuovo episodio del podcast su Spotify, quindi correte su Spotify a ascoltare i podcast Se non sapete che cos'è, è un podcast dedicato alla lore di League of Legends Ma riconcentriamoci su quello che sarà l'inizio della stagione E prima che qualcuno me lo chieda nei commenti La stagione le ranked iniziano il 10, da quello che ha detto Riot Se poi questo cambia e diventa l'11 non è colpa mia Lanciamoci nella patch preview 13.1 Partiamo dai buff ai campioni Vediamo Shaco da attacco fisico essere buffato Quindi non la versione da potere magico Mi dispiace per voi, grandi fan di Shaco mago Non è quello il caso Costo della Q viene ridotto a 60-40 Grosso buff per l'early game, non male Il backstab crit, il critico quando tu tiri la Q Potenziato da 30% a 40% di danno Molto buono, questo vuol dire che i ganchi in early game saranno ancora più pericolosi E lo scaling su attacco fisico della E passa da 75% a 80% Non male, almeno spinge Shaco più in quella direzione Piuttosto che nella build a mago Non è che DC è debole adesso la versione da mago È semplicemente un modo per dire Ehi, potete giocarlo assassino come dovrebbe effettivamente essere Shaco Ragazzi, reworkate Shaco Cioè, seriamente, Riot Reworkate Shaco Ne abbiamo disperatamente bisogno di un rework di Shaco Così che almeno ha anche della lore, magari Jace, questo è un buff che non mi aspettavo, non così presto almeno Perché di solito hanno sempre paura di buffare o toccare Jace Prima dell'inizio della stagione competitiva Perché? Perché Jace in competitivo è tipo Turbo Basted Se forte Un minimo forte L'attacco fisico passa da 54% a 57% La forma corpo a corpo è la W Adesso fa 10 danni in più per Tic Che fa quei fulmini ad aria attorno a sé Quelli E la Q in forma corpo a corpo sono anche quelli 10, 15, 20, 25, 30 danni in più Qua dice 35 danni in più sull'ultimo rank Ma non è ancora confermato che mettano anche quell'ultimo potenziamento Hanno detto che dovrebbero farlo su tipo 310 E quindi l'aumento massimo diventa alla fine di 30 danni in più totali Comunque buon buff per Jace nella forma corpo a corpo Almeno può esporsi un po' più spesso E non deve Non è costretto a stare così spesso in forma cannone La forma cannone di Jace è quella più sicura E quella più abusata in competitivo Buffare la forma corpo a corpo è un buon modo per Farlo funzionare meglio di solo chi Senza sbilanciarlo in competitivo Vedremo se questo poi regge alla fine Immagino che i base HP di Alessandra Non siano base ma siano bonus HP Perché 104 non sono gli HP che ha Alessandra a livello 1 Sono ben di più Non si ricordo a memoria il numero Ma saranno HP per livello Da 104 a 110 6 HP per livello Per 17 sono 102 HP in più a livello 18 Non male Visto che è un campione che deve esporsi molto Ci sta andare a abbaffare gli HP Lo slow aumentato della Q Di 4, 5, 6, 7, 8% di slow Molto buono Ma la cosa più importante è il cooldown della W In un meta in cui i maghi non hanno tanto potere magico Ma hanno tanta ability haste Come è attualmente il meta per i maghi Andare a potenziare la W Secondo me è un'ottima cosa per Alessandra Almeno andrà a facilitare molto di più il suo utilizzo Come mago da controllo pesante nei teamfights Non penso che la sbilanci al punto di dire Oh mio dio adesso è rotta Però può inserirla in più situazioni Sion i base HP di Sion passano a 615 a 655 Sono 40 HP in più che per l'early game di Sion Fa una grossa differenza Sion è messo una merda raga È orribile Cioè tipo a 47,6% di win rate Una roba agghiacciante Potrebbe essere cambiato Io l'ho visto un paio di settimane fa Quindi il dato potrebbe essere più alto Adesso metto questo spoiler Perché mi è venuto il dubbio Visto che è un po' che non lo guardo Ma Sion non è messo bene a medio-alto velo Max damage della cubina aumentato ulteriormente Cosa che non trovo sensata Cioè Ok che Sion ha dei danni base Necessariamente alti Perché è un tank Dovrebbe buildare tankoso E quindi metti dei danni alti Così che può buildare tank Piuttosto che Fare Dover buildare per forza I cose danno E che allo stesso tempo Sei In quella situazione In cui Sion non è Cioè Non è facilmente bilanciabile Perché tutto attorno a lui È più forte A livello di sustain A livello di tankiness A livello di danno che fanno E quindi Buffarlo ora Mi sembra un po' troppo preventivo Quindi Non proprio contentissimo Del buff di Sion Capisco il perché Lo facciano Ma penso che sia La classica reazione A Non abbiamo ancora visto Come è messo Il resto del roster Dopo i nerf che faremo Ma Baffiamo preventivamente Xaia è un inserimento Tardivo Prima non c'era In questo annuncio Della patch preview Metto un attack speed Di base più alta Da .625 a .658 Molto buono Soprattutto per l'early to mid game Tanta tanta roba E l'attack speed ratio Scala da .625 a .658 Quindi questo scala Anche per tutte le fasi Di partite Questo è proprio un Aiutino generale a Xaia Per farla funzionare meglio Immagino a livello di fluidità E di piazzamento delle piume E in generale Perché così ha più dps Forse vogliono anche Scollegarla Da dover magari Utilizzare il tempo letale Perché Xaia a tempo letale È veramente forte Così però funziona Bene con il tempo letale Ma magari non sei costretto Cioè Ci sono tutta una serie Di bilanciamenti Che riguardano L'attack speed Quando hai L'attack speed scala meglio E ce l'hai più alta di base Puoi buildare Un paio di oggetti A attack speed E magari appoggiarti Al conquistatore Oppure al press di attack Perché vuoi fare Dei trade più veloci Cioè Ci sono tante variabili Di cui tener conto Probabilmente L'intento è Rendere più forte La build a tempo letale Ma darti l'opportunità Di magari buildare Anche il conquistatore Come runa principale Molto interessante Mi piace questa idea Ma vedremo Come ne uscirà fuori Bene che buff in oxaia È messa bene Ma non abbastanza Per risultare impattante A sufficienza A sufficienza Twisted fate Buffato Non me l'aspettavo proprio Cooldown della Q Che si abbassa Da 6 secondi Fissi a 6 575 5 e mezzo 525 5 secondi Considerato la BTS Che prende twisted fate Questo buff Mi fa già paura Lo scanning Sul potere magico Della carta blu Della W Passa da 90 A 115% Del potere magico E la red card Passa da 60 A 70% Twisted fate In competitivo È appena tornato in vita Cioè Questo è veramente Tanto Tanto forte Non comprendo bene Il perché insedire Questo buff Ma immagino che sia Anche per un po' Evitare che sia lo stesso Identico meta Anche competitivo Passiamo dai buff Ai campioni Ai nerf Ai campioni Nerf ai campioni Che vanno a colpire Tutti i colpevoli Di questo mese e mezzo Di distruzione Che è stata la patch 12.23 Per chi non ha giocato molto Attualmente le cose forti Che ci sono Sono il jack show Su campioni forti Dotati di sustain È abbastanza ridicolo E il mondo Il mondo è tipo Rottissimo E meno male Che lo vanno a nerfare Secondo me non è neanche Abbastanza questo Sinceramente Ma ora vediamo con calma Partiamo da Aatrox Il danno della passiva Viene ridotto da 5-12% A 14% Ricordiamo una cosa Il danno di Aatrox Della passiva Conta anche per una cura Quindi vuol dire Ridurre il sustain In fase di corsia E il danno che fa In fase di corsia Molto buona È una delle cose chiavi Di Aatrox Questa è andarla a nerfare Tantissima roba La E durante la Suprema Cioè quanto ti dà Di cura La E Nel mentre che la Suprema È attiva Passa da 25-30 A 35-40 A 45 A 20-24-28-32-36 Cioè ciò che prima Ottenevi al terzo rank Della E Adesso lo tieni al Quinto rank Della E E non recupererai mai Ottieni anche meno Moodle speed Della Suprema Nel momento in cui La vai a attivare Da 60-80-100% A 50-65-80% Buon buon nerf Questo Clean Cioè poco da dire Questo è un buon modo Per andare a gradire Aatrox E ridurre un pochino Il suo sustain Oltre a ridurre la sua capacità Di stare addosso alla gente E renderlo più caitabile Quindi Good job Riot Mundo Sono 40 HP Meno a livello 1 Meno armatura per livello Che sono .5 Che ricordiamo Per 17 Sono 8,5 Non proprio La quantità di armatura Che secondo me Farebbe la differenza Molto buono Che riducono la quantità Di attacco fisico Che hai Dipendentemente Da quanti HP massimi hai È mezzo punto percentuale In meno Ma fa una grossa differenza Su un campione come Mundo Che A Si appoggia all'hardsteel E B Si Si va a prendere tanti HP Degli oggetti da tank Che è quello che lo rende Veramente minaccioso Sincero Non penso che basti Per nerfare il suo early game Al punto da renderlo Debole in early Che poi iperscala Cioè L'idea di Mundo Dovrebbe essere Fa schifo in early E poi iperscala Sempre di più Se riesce a sopravvivere Abbastanza lungo E a trascinare il game in avanti Diventa veramente forte Quella dovrebbe essere L'idea di Mundo Il punto è che Mundo È abbastanza sicuro in early Ora Che iperscala quasi sempre All'Oelo E quindi È quel Da lì deriva la frustrazione Quindi andarlo a indebolire così Capisco perché Vadano con i piedi di piombo Ma ha bisogno di una mazzata Più pesante secondo me Forse già basta questa Spererei in qualcosa Di più prepotente Fiora Io sono contentissimo I nerf a Fiora Mi rendono sempre estasiato Danno della passiva È 3 Passa da 3 più 4,5% Per 100 bonus a D Cioè 3% È la vita massima Come danno puro Ricordiamo È su scala assolutamente Con 4% bonus a D Invece che 4,5% Molto buono Meno male Grazie Riot Che era veramente Una merda E il danno della Q Adesso viene ridotto Del 5% Sull'attacco fisico bonus Quindi Un buon nerf A tutto tondo Per Fiora Sia sul suo danno Sostenuto della passiva Che quello della Q Visto che Comunque Cull danno della passiva E della Q Sono Non dico identici Ma coincidono così Che puoi scattare attorno Al bersaglio Tutte le volte E ottenere tutto Il moon speed Quindi Good job Riot Ottima scelta Anche qua A livello di nerf Azzeccatissimi Aatrox e Fiora Check Dottor Mundo E poteva essere un po' più forte Xante Movement speed Di base abbassata di 5 Danno della passiva Ridotto di 5 Per ogni singolo livello In cui ti trovi E il danno minimo A W È stato dimezzato Praticamente dimezzato Non a tutti i livelli A livello 1 È meno che dimezzato Cioè È tipo 55% in meno 4,25 Diventa 2% 4,5 diventa 225 Quindi lì è dimezzato Poi quello che era 4,75 diventa 2,5 E poi 2,75 Vediamo invece Una riduzione Da 5 a 2,75 E 3% La vita massima È il danno minimo Della W Il danno massimo Rimane Praticamente Non dico lo stesso Perché è comunque Un 1% in meno Ma al momento In cui carica W Al massimo Hai il grosso del danno L'idea è cercare di bilanciare Chessante Togliendogli un po' di danno Tutto tondo Perché è veramente forte Ricordiamo una cosa La W di Chessante Questo intende Sia la forma In Quando hai la suprema attiva Che la suprema Disattivata Quindi ridurre il danno Era necessario Buon modo per farlo Mi preoccupa un po' Il nerf Alla base movement speed Ma immagino Che sia preventivo Anche per evitare Che in competitive Sia totalmente rotto Hanno rimosso Il nerf Amore dei Kaiser Che Si sono resi conto C'è già il nerf Del jack show E quindi non ha senso Andare a nerf Anerfare ulteriormente Mordecaiser Comprensibile Rammus Attacco fisico Che passa da 56 A 53 Gli HP di base Scendono a 6,34 A 6,14 Quindi 20 in meno W Percent bonus Resist Now Amps Flat resist From W Adesso Il bonus percentuale La W Amplifica Le resistenze flat Della W Però L'armatura Della W Passa da 40 A 25 E poi L'armatura percentuale Passa da 60 70 80 90 100% Da 40 55 70 80 100 Perché Perché la W Adesso amplifica Anche la W L'effetto La W Dell'armatura Invece Prima non lo faceva Non lo calcolava È un modo per ribilanciarlo Attorno al fatto che Ne tiene conto Ma soltanto nei rank Più alti È effettivamente Più forte È ok Come modifica È un buon modo Per nerfarlo Soprattutto in early game Adesso è molto Più debole Molto più debole Prima che qualcuno Chieda perché Del nerf Di Yumi e Zeri Yumi è per Semplicemente Segarle le gambe Perché nella Demacia Cup E nella Weibo Cup Se non ricordo male Si chiamava Due tornei minori In LPL Che servono Praticamente in off-season Per riscaldarsi Per prepararsi A quello che è La pre-season E alla patch Competitiva Della season 13 Hanno visto Yumi e Zeri Essere tipo Iperdominanti Iperpiccati E quindi Hanno detto No 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 Non vogliamo vederlo Si parla di 10, 20, 30, 40 50 danni in meno Sulla Q Per quanto riguarda Yumi Quella di base E poi sono Anche là Sono 10, 20, 30, 40 50 Nella versione potenziata Quindi Una bella legnata Zeri A livello di danno Almeno dovrebbe Tenerlo un attimo Sotto controllo Finché non arriva un rework Che si arriva un rework Ma ci vorrà un po' E Zeri invece È un pochino Una toccatina più leggera L'attacco fisico Per livello Scende da 1,5 A 1,3 Che è 0,2 Di differenza Su 17 E 3,4 IAD Però sulle raffiche Che tira Zeri 3,4 IAD Fanno una bella differenza E il danno Da Q In abbassato di 1,2,3,4 Per raffica Quindi anche qua Buon lavoro Riot Escludendo Mundo Che è quello Probabilmente Nel fatto Peggio Tra virgolette Tutti questi cambiamenti Ci azzeccano Magari non sono Una direzione perfetta O una in cui Non mi trovo Magari totalmente D'accordo su alcune Ma ci stanno Tutti i cambiamenti Procediamo A cambiamenti sistemici Oggetti E quant'altro Qua si procede Sui buff Agli oggetti Nerf E poi Agli aggiustamenti L'Axio Mark Riceve 8 di letalità A caso Tipo Riot Ok Ok che l'Axio Mark È effettivamente Deboluccio Come item Cioè non lo pigli Quasi mai Però curioso Come potenziamento Va bene Molto poco costoso Oltretutto A confronto agli altri Gettialità Quindi Per l'effetto che ha Intendo In proporzione All'effetto che ha Quindi Ok L'Horizon Focus Finalmente A 100 di AP Il fatto che L'Horizon Focus Fosse un oggetto Così merdoso Non dava nessun motivo Di comprarlo mai Cioè è bella L'amplificazione D'anno Ma hai così poco Potere magico Per sfruttarlo Che è un po' Meh Mettiamola semplicemente così Gli HP della Rodoviges Passano da 300 A 400 Inoltre la passiva Dell'Eternità Attiva la Movement Speed Bonus Non con 250 HP Ma 200 E ottieni 35% Movement Speed Invece che 25% E ci sono altri Cambiamenti Che vanno a migliorare L'efficienza E la funzionalità Che però Non vengono Specificati Quindi ok E il Winter's Approach Che è l'oggetto Per poi buildare Fimbulwinter Costo ridotto Di 100 gold HP aumentati Di 50 Ora torna a essere Un oggetto da HP Abbastanza interessante Da poter magari Andare ad acquistare No Non si builda Comunque su Horn Maledetti bastardi So che ci state pensando Non fatelo Maledizione Non vi serve Usate bene il mana Nerf sistemici Questo Mi ha stupito Quando l'ho visto Perché È una delle rune Che la gente La guarda E la ignora Come livello di potere Ma è tipo La runa Più abusata In assoluto Dai fighter E dai bruiser E i duellanti La leggenda tenacia La leggenda tenacia Va a dare Tenacia Per stack Tu ottieni 10 stack Hai un totale Di 30% di tenacia Con questo nerf Che passi da 2.5% Per stack A 1.5% Per stack Vuol dire che togli Il 10% Di tenacia Questo vuol dire Che la durata Di controlli È il 10% Più alta Che non riduci Del 10% Cioè passi Da 30% A 20% È una cosa Molto buona Molto Molto buona Perché vuol dire Che nel momento in cui Un fighter Fa un errore di posizionamento E subisce un controllo Dura più a lungo Questa era una delle rune Che metteva più in difficoltà Il bilanciamento del gioco Perché i fighter Molti dicono Eh ma i fighter Sono troppo mobili Riescono a raggiungermi Troppo facilmente Ma non è che sono Non è la main speed Magari O gli scatti O cose del genere È il fatto che Quando tu gli piace Su controlli in testa Spesso volentieri Non dura abbastanza Perché puoi fare Una facile sinergia Se c'è una team com Da controlli pesanti Unflinching Leggenda tenacia Bene I controlli non esistono Praticamente più Se prendi anche I mercury Ciao È un buon modo Per andare a Indebolire la categoria Senza farlo apparire Così ovvio E molte persone Non se ne accorgeranno Inizialmente Diranno Eh no ma non è cambiato niente Col tempo Quando cominceranno a usare Più campioni Da crowd control Vedrete come Si sente Si percepisce La differenza Il jack show Il bilanciamento Del jack show Che vede il suo costo Aumentare di 100 gold Comprensibile Le resistenze Non sono più Due per secondo Più il 15% Della resistenza Totale Alle stack massime Ma Due per secondo Più il 20% De resistenze Bonus A max stack Qual è la differenza Prima Andava a potenziare Le resistenze Di tutta l'armatura E tutta la resistenza magica Campioni come I fighter I duellanti I bruiser Cosa facevano Prendevano questo oggetto Perché di base Hanno alta armatura E resistenza magica Perché ne hanno bisogno Se no non sopravvivono Ma adesso Non gli buffa più Quella totale Gli buffa soltanto Quella bonus Soltanto quella che tu Ottieni dagli oggetti Dalle rune E quindi I tank Ne traggono beneficio Perché Loro continueranno A buildare resistenze Mentre invece I fighter non possono I fighter hanno bisogno Di andare per oggetti Aggressivi E di sicuro Qualcuno dirà Eh ma l'apoma Andranno comunque Di death dance Andranno comunque Di malmortius E quindi Le resistenze Le prendono Sì ma non è comunque Paragonabile a prima Perché se prima Avevi un atrox Da 150 armor Che utilizzava Tutta quei 150 armor E venivano potenziati Del 15% Adesso soltanto Quella resistenza Della malmortius Viene calcolata Nel bonus E il 20% Di cos'è 40 resistenza magica Nel malmortius Se non ricordo male O 50 Sono 8-10 DMR in più Cioè Non è niente Non è sufficiente Per dire Guarda Prendo il jackshot Perché ne vale Veramente tanto la pena Vanno però A bilanciare una cosa Del jackshot Il drain amount Cioè quanto Vai ad assorbire Che è 80 HP di base Più 7% Di vita massima Piuttosto che 3% E basta Quindi Hai Un item da sustain Per i tank È molto strano Cioè La debolezza Della categoria Dei tank È sempre stata questa I tank Non hanno sustain Naturale Ci sono tank Che hanno sustain Naturale E sono delle eccezioni Specifiche E la tipologia Di sustain Di solito È slegata Dalle cure Vedi ad esempio Sion Che si basa sugli scudi Oppure Shen Orn sacrifica Il suo sustain Per avere più resistenze Alte di base Ci sono campioni Come ad esempio Maokai e Zack Che si vanno Effettivamente a curare Ma non è il loro focus Principale Per dire Mundo Spesso e volentieri Viene definito ancora un tank Per quanto sia L'assurdo del Mundo è il fighter Più tankoso del gioco Ma non è tecnicamente Un tank Che suona assurdo Ma è per l'idea Che Mundo Non ha controlli pesanti E non ha L'idea di andare A tankare pesantemente Come un tank farebbe Cioè prendendo controlli E piazzando controlli Ma vuole semplicemente Picchiare cose Sacrifica tutto Quello che è la natura Di un tank Per fare danno Spiegazione per dire In generale I tank non hanno sustain Dare un oggetto del genere Ai tank è una cosa Che mi stranisce Ma è molto figo Ovviamente Bilanciano Mettendo che I minion e i mostri Non ti permettono più Di assorbire Da loro Quindi Ok Vedremo come Ne uscirà fuori E per la gioia Di letteralmente Tutti i cazzo Di mage player Finalmente Reworkano il seraph 400 gold In più di costo Ti dà 80 di ability power Ti dà 10 di ability haste Adesso Invece di darti Ability haste Per una porzione Nel mana bonus Ti dà Potere magico Equivalente al 2,5% Del mana bonus Cazzo Grazie Finalmente Riot Non solo Come fottuto dito medio Agli assassini Si dicono Sai cosa Rimettiamo lo scudo Al seraph embrace E glielo mettiamo così Mettiamo che È uno scudo lifeline Che se tu scendi Sotto una soglia di HP Ti genera uno scudo Che fa 250 di scudo Più il 20% Del mana attuale Sì Cazzo Finalmente Finalmente Ci sono dei cambiamenti Che aiutano i maghi Che sono messi di merda Poveri maghi loro Veramente messi di merda I maghi Quindi Meno male Grazie mille Riot Questo è un ottimo patch Per l'inizio dell'anno E io Spero vivamente Che ci sia qualcosa Di più concreto Di questo Perché ok Belle le patch Di bilanciamento Finchè vogliamo Serve qualcosa Serve qualche Un po' di ciccia Riot Perché sincero Ho ancora paura Nonostante tutto Che la season 13 Sia il Minimo indispensabile Per procedere davanti E nulla di più Signore e signori Ditemi che cosa ne pensate Nel commento Questo è quanto per questo video E noi Ci vediamo Al prossimo Ciao a tutti 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 Ciao a tutti